I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato un imprenditore italiano sulla Trentina. L'arresto è stato eseguito durante un'operazione antidroga finalizzata a stroncare il traffico di sostanze stupefacenti nel centro della città. Identificato sotto casa appunto dai carabinieri mentre si trovava al volante della sua auto, l'imprenditore è stato sottoposto a una perquisizione iniziale, personale e domiciliare che consentiva di eliminare una ventina di grammi di sostanza stupefacente e 97.800 euro circa in contanti. La vera scoperta è arrivata in un secondo momento quando i carabinieri sono andati a perquisire altri due garage in suo uso e a ritirare un pacco che si trovava in fermo deposito verso la sede di un corriere espresso internazionale. Le operazioni di ricerca sono terminate col sequestro di 57,5 kg di sostanza stupefacente. Su disposizione della Procura della Repubblica, del Tribunale di Bologna, l'uomo è stato portato in carcere.